ma allora per la gemtrac che ci sta adesso perché hai sia il fatto che puoi usarla in festival che come lobby track e poi ovviamente le puoi usare in altre modalità in cura così anzi no 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 andiamo andiamo qua ok vuoi parlare un po' l'antana eh lo so però a me è zona quella nuova cioè cosa tipo la zona arida mi piace con la parte dello squalo hanno levato un terreno di cosa cosa ma dove dove si è quello di lo squalo della bar e ma quando c'è il boss è voto c'è possa voto la nave di megalodon ma io non lo so ma io sono andato con sala un po' più giusto c'è proprio niente infatti non c'è andava nessuno ne conosco ma neanche qui dove stiamo appena andato ci vado così ma io di solito gli unici posti in cui vado spesso sono il nitrodrome e si ma guarda che stanno arrivando qua comunque questo non so se sono veri o no per me no però uno è un po' bar sono un po' alti questi ma ci arrivo solo per prendere no che cos'è ecco quanti sono? quanti sono? quanti sono questi? quanti sono? oddio mi ha spaventato come faccio a buttarmi giù qua senza farmi... quanti botti ce ne sono? quanti botti questi tra l'altro io non ho preso i due con la... ok eh ma io non scudi eh io non fuori io non ho qua no scudi io ne ho uno se vuoi no no tieni no ma guardi che serve mamma mia comunque questa mitraglietta è fortissima cioè a me fa schifo però quella che spara raffica tipo eh però non... come arma non mi piace devo ammettere iuuu ma io fai schifo iuuu 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 c'è proprio... proprio niente mamma mia c'è anche una cassa c'è proprio c'è proprio c'è questo c'è proprio c'è un nemice c'è un nemice e poi demice ci sta guardando adesso non si è dormezo cosa non ci ha detto le buze ma qua c'è c'è un nemice c'è un nemice però eh ha detto che domani torna ho detto demice non so da cosa da dove però Ok Dai gioco dammi qualche arma figa Ah già Non vedo un cazzo Che mi si vede a malapena Ma non gli arrivano i colpi tra l'altro Finche l'ho colpito Mi hanno disnato un po' distante Ah ok Meno male Chi ho? C'è qualcuno che sbar... Da dietro Ho sempre gli spari dal cavo Ma comunque questa qua è un'arena Questa qua ci va con la macchina qua sopra secondo me Questa strada così tipo Oh Eccolo il coglione Meno male che si sono i cactus Cavolo Ma cosa migliori che hanno messo in questa season i cactus? Sì Sì Mi rimembrano tanto dalla scorsa season Ma... Ho sentito il rumore di un drop ma non c'è niente Ma che ho sentito cosa però... Ma boh Ah ma forse sono i fuochi questi qua che fanno sto che... No Qua ci viene poca gente qua nella zona... Qua volta ci veniva più gente qua mi ricordo Queste zone nuove diciamo Ormai non gliene frega più un cazzo a nessuno Vabbè ma perché sono tutti lì a tryhardare in reloaded Eh... Sarà tranquillo Ah ma scoperta se vanno aspetto Perché si cazzo... Non si vanno più Ah ma molti giovani Ma io quando avevo capito sembra che molta gente è in reloaded e che è un attornoio adesso E' bello che c'è... Mi ricordo c'è gente pure che diceva Diceva... Non ha forse tanto successo la modalità che diceva... E' il contrario Ma in realtà... Ma poi io che... Sì chiudica questa affermazione perché tutti volevano di nuovo la... La... Eh però andando c'è gente... C'è qualcuno l'ha detta questa cosa Ma guarda c'è... Non ho preso manco... Ma... Vabbè la pinta... Quanti front... V为i.. Vasco qui... Ehi vabbè... Vai tu� qui... Vabbè qui... Il servito valami... Nada... Ma scusa devi... Aspetta, ma che c'è qualcosa? C'è chi non c'è? C'è altro che ci ammazzano così me ne vado io Oh, se a me altro ci ammazzano così me ne vado io Oh, è il vostro colletto Che giuse Oh Passi, passi, passi Nooo, non c'è Non vedo, non vedo Ok, perfetto Ok Ah, c'è l'ho bai C'è l'ho bai C'è che c'è? C'è l'ho bai C'è l'ho bai C'è l'ho bai C'è l'ho bai E noi non ho caduto niente due secondi Ma che cosa, vai tuon! Vi attacchiando con te E da te E se il suo è il nome è della wanna risponderti Io giuseppe era Un po' aspettato non vuoi fare una cosa? ahahah cosa devi fare? si che ho visto il trappostamento di Leandro dove stavo andando a Montarimpo ma cos'è che stai facendo? una Montarimpo c'è un patteggio dietro a Montarimpo ci sta un patteggio dietro a Montarimpo oh 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 il bug è in tapparello ah? dove? ah ho trovato leee cosa? le cose? ne ho 5 vabbè ho una sola ne posso pigliare ma dove sono? ma le hai prese tu le hai prese le cose? eh si le ho così ah ok ah no vabbè ma tanto ci sono 5 ce l'ho ce l'ho comunque prendiamo eh non sono andati guarda che sono andati quelli ma come facciamo? abbiamo fatto il giro non so si si ecco qui ok questa cosa che adesso cioè prima consumavi il cioè per fare il turbo prima consumavi il carburante adesso non lo consumi più ah no consumi non consumi no ma prima era diversa ma comunque ci sono i cenzinai che eh punto proprio quello c'è è una cosa al contrario farlo prima no così al contrario no questa cos'è? ah questa è quella grossa ah questa è un impulso è un impulso anche io il mirino glielo metto ma solo guerra non ci spendi tanto quest'arma di merda questo sarà basta ci ha fottuta la macchina uff chi ha? chi è che c'ha fottuta la macchina? non so qualcuno giusto mi ha fottuta la macchina quindi le moto le hanno tolte allora quindi le moto le hanno tolte allora le moto aspetta ti ti passo le parca puttana che cazzo stai combinando ma quale le bombe le? si ma è vero c'ho le moto le moto cross c'è no no si c'è c'è un fulgio ah ok allora le metto io ma no aspetta facciamo una cosa mi prendo la palestra quella per drop non si può no eh come coglione non c'è nessuno tra l'altro le cazzo stanno tutte raga porca puttana non vedo neanche i medaglioni eccalii oh nell'altro bunker stanno qua andiamo a ucciderle e arriva eh tanto qua che cazzo dobbiamo fare stanno fare un cazzo aspetta questa è che ruote sono no? eeeh vabbè andiamo eh vado eh vado al viola andiamo al viola aspetta ah no però ho cambiato no 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 ma dove è che ho puntato? no ma non stanno più qua comunque eccoli davanti a noi no qua ah l'ho sbattuto gli ho fatto tanto paragli altra porca puttana ma non usare le mitragliatrici scusa ah vuoi essere la cosa? no 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 anche questi qua stanno andando che cazzo stanno andando sti voglia ma stanno andando ma stanno andando tranquilli questi tra l'altro ma sparano mica tra l'altro questi ah ora ci spara ma quello che era qua che ha fatto ma quello che era qua che fine ha fatto ha cambiato macchina ma come ha fatto è salito ci sono pure quelli con le no 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 aspetta ma inseguiamo gli altri è meglio che stiamo sparando a togli altri e quelli mi sembrano scarse non mi sembra dei coglioni mi sembra ah hanno riparato la macchina mi sa che hanno riparato no ma fai un po' e allora mi sa che ci fottano ah si l'hanno riparato aspetta che ci inculano sono in sequenza aspetta che si dice di ero il cuore la forza ah no vai qua vai qua vai qua ma arrivano eh sparagli ragazzi arriva arriva sparagli ma sono tutti assieme non lo so ci hanno massacrato ci hanno massacrato col figlio di spero che il coso si è rigenerato ah papà vai 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 papà vai vai papà con un cielo ahahah è ora no 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 quanto cazzo c'ho a tolto Anche noi siamo quasi morti Ora prendo qualcosa e prendo un rift e mando il figa Vedete come fa se non riescono a seguirci anche pigliandolo Se non riusciamo a ripararci qua Abbiamo preso un po' di danno ma almeno Sono seminati In realtà sono lì e là E sono lì, infatti sono l'orcazzo Ehm... 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 Gli potrei tirare le cose Gli potrei tirare... Ehm non so l'MP Sono io però Ma che cazzo state sparando? Ho troppato la macchina Ehm... Ma ce l'ho distrutto Ma non esplode scusa Oh c'è una... Oh ragazzi c'è una giuta Una battuta eh Ma c'è uno che sta con me la giuta di maglia eh Quel fa la caduta Ma io... Ma io... Ma l'hai detto C'è una caduta Dove sta? Ehm non so lontano Gli tiro le cose Gli tiro... Gli tiro la cosa alla macchina Gli tiro Gli ho bloccato Gli ho bloccato Aiutatemi però top Ho scappato È lì bex È lì bex No, è il botto che c'è No, è quello là, guardalo No, ma che cazzo fa questo? Giuse, porca puttana, ma E' sopra Ma come faccio a salire? Io non c'ho niente per salire Si, non sei giuse Ma t'ho ucciso? Giuse, ma dove cazzo sei? Oh, attenta! Ah, ma sei sotto? Eh, mamma, è un po' il po' cazzo Eh, baffanculo Ma io non so, ma non so Vieni che sono a te Andai, io dammi a curare che Eh, oddio Ma io c'era qualcuno, capisci? Eh, mi devo mazzare, c'era ma fa Oh, c'è il medaglione C'è il medaglione C'è il kit Ma c'era uno qua, eh Questo E poi tutto un po' Eh, allora, il mio Oh, i guanti mitici ci sono, forse Era un porcellino questo Ah, è un porcellino proprio Ma c'è la macchina potente qua in mezzo, tra l'altro Me lo piglio No, è distrutto Merda, non ci sono le ruote Ah, mi sono fatto danno io stesso Ma c'è qualcuno? Stai prendendo le schede? Io non ho guanti, non ho un cazzo Ah, però c'ho Ah, ma c'ho il potere del fuoco È vero? Perché ho preso Era quello che ho preso C'ho preso un coso io Eccola, eccola di qua Non c'è se riuscivo a avvicinarmi Gli tiravo la cosa e la bloccavo Eh, ho capito Non è che possiamo ogni volta Oh, io Gli ho sparato un bot con la macchina Gli l'ho quasi distrutta, però Oh, ma questi escono dalla safe, sti coglioni Eccoli Gli sono in tre, cazzo Oh, merda L'ho battuto uno qua, eh Qua sotto Oh, merda, chi è? Io sopra Lo voglio non curare Corri Oh, c'è uno qua Oh Oh, questo Ma chi è che spara con la... Ma che il bastardo Uno nell'acqua Ah, l'ha battuto Oh, merda Ma quanti sono quelli Madonna, l'ho massacrato Ah, l'ha battuto Ma c'è una mira pazzesca Ah, sono ancora in set No, raga, dobbiamo pushare Che lo sta curando, eh Io vado Aspetta Eh, ma aspetta Lo sta curando Che faccio? Lo faccio curare, no? Ah, muore Ma chi è pure? Oh, l'altro ancora, no Dai, sono due battute Aiutatemi, Cristo Oh, di Dio Sono due battute Qualcuno ci deve andare Perché io so per morire Guarda, l'ho massacrato Poi, l'ho massacrato Poi, l'ho massacrato Poi, l'ho massacrato Poi, che stavo Andando a rianimando Ebbè Ebba Ebbè, infega Ti ha giuse Mamma mia Madonna Assurdo qua La fine Grazie